Carola Fiorini, a seguire si prepara il numero testiera 168. Carola Fiorini, a seguire si prepara il numero testiera. Carola Fiorini, a seguire si prepara il numero testiera. Carola Fiorini, a seguire si prepara il numero testiera. Carola Fiorini, a seguire si prepara il numero testiera. Carola Fiorini, a seguire si prepara il numero testiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.